19 e 16 anni fa impressione pensare che due ragazzi imparentati tra loro abbiano sparato nove colpi per uccidere Gaetano Spera anche lui giovane appena 22 anni dopo averlo fatto chiamare da un conoscente comune per sapere dove fosse Spera era in un vicolo nella piazza di Giovinazzo la sera del 25 marzo scorso ha tentato di accendere il motorino ma non andava allora secondo la ricostruzione dei carabinieri Vito Arciuli è sceso dall'auto in cui c'erano altre tre persone e gli ha sparato contro sette proiettili Spera ha tentato di fuggire ma dall'altra parte c'era il ragazzo di 16 anni che avrebbe esploso altri due colpi Vito Arciuli il 19enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato dalle modalità mafiose con lui in carcere per concorso anomalo nell'omicidio e nella detenzione delle armi altri tre uomini tutti incensurati Ignazio Chimenti 26 anni Luca Lafronza 23 anni e Pio Mauro Sparno 32enne il 16enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri. Un omicidio maturato intorno al porto di Giovinazzo dove Arciuli proveniente da una famiglia di pescatori voleva dettar legge decidendo chi e dove poteva gettare le reti. Devono buttare le reti dove dicono loro ci sono determinati scogli che appartengono a loro e quindi c'è questa sorta di assoggettamento dalla quale purtroppo chi decide di ribellarsi fa una brutta fine. Nelle indagini è emerso che a settembre dello scorso anno c'era stato un tentato omicidio nella zona del porto il bersaglio designato vivo solo perché l'arma si inceppò non aveva denunciato nulla.